Allora, oggi la location non è delle più azzeccate, in realtà c'ho una maglietta del Betis, indovinate qui, metto il cuore a chi sbaglia e rispondo e lo posto su Instagram a chi indovina. Dove cazzo sto andando con la maglietta del Betis? È difficile. Detto questo, ragazzi, io oggi volevo esprimere un parere. In un video oggi volevo esprimere un parere, in una location un po' strana, un po' buia, un po'... Poco qualità in realtà con questa location, però volevo far uscire un video e quindi dobbiamo adattarci. Volevo esprimere un parere. Il parere in questione è relativo ad una situazione che ho letto, che non mi piace per niente, un discorso legato a delle parole di Modric post National League, ma in realtà non è un discorso tanto legato alla National League questo video, va un po' a scindere da quello che poi è stata la National League, ma è perché sinceramente sono anche un po' stufo, un po' tanto stufo, di leggere sempre le solite cose, sempre, sempre, sempre le solite cose, di sentire sempre le solite cose, no? E ho detto, sai che c'è? Voglio parlarne, sai che c'è? Voglio dire la mia, ok? Avevo commentato sotto un post su Instagram, molti mi avevano dato contro, ho detto, senti faccio un video, voglio dire la mia cercando di spiegare il più possibile. Lui fa riferimento al fatto che non sono degli animali, che giocano troppe partite, che hanno bisogno di riposo, allora, e molti, ovviamente, gli vanno dietro, perché ormai il must è dire che giocano troppe partite, ormai è stato detto così tante volte, ma così tante volte, che ve lo hanno inculcato nella mente anche a voi. Ormai, nella vostra testa, c'è il fatto che i calciatori giochino troppe partite, e ogni volta che io mi trovo a relazionarmi con voi riguardante il fatto che un calciatore sta rendendo meno, non è più Emma, poverino, Emma gioca senza mai fermarsi, Emma sono mesi che sta giocando senza mai interruzioni, è però così non può perché, ovviamente, come fa? Come fa che gioca duemila partite l'anno? Non è più come una volta? Allora, facciamo un attimo chiarezza, giusto per capire, no? La Serie A, la Liga, la Premier League, la Ligan, sono campionati a 20 squadre da 20 anni. Questo vuol dire che 38 partite le fanno da sempre. La Coppa Italia, prendiamo come esempio la Coppa Italia. La Coppa Italia, ragazzi, è una competizione che prima aveva ottavi, andate e ritorno, quarti, andate e ritorno, semifinali, andate e ritorno, finale, andate e ritorno. La finale in due partite addirittura. Quindi, se ti fosse andato bene, tu avresti fatto ottavi, quarti, semifinali per due, otto partite. Oggi, con la nuova formula, che ormai c'è da una decina d'anni, tu ne fai molte meno, un turno agli ottavi, un turno ai quarti, due turni in semifinali, la finalissima. Una Inter, che ha vinto l'ultima Coppa Italia, ha giocato cinque partite. Cinque, 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 cinque gare ha giocato. Non otto, cinque. Quindi, da vent'anni a questa parte, si sono ridotti il numero di partite in Coppa Italia. La Champions League. La Champions League è sempre la stessa. Sono vent'anni che la Champions è fatta da otto gironi da quattro squadre, poi andate ritorno ottavi, quarti, semifinali e finali. E mi hanno aggiunto la Nations League. Sì, la Nations League. La Conference League, sì. Ma per squadre che non avrebbero fatto la Champions o l'Europa League. Quindi non è che si sommano le partite, non è che chi fa la Champions, tutta la Champions, fa anche tutta la Conference. O ne fai una, o ne fai un altro. Il percorso è sempre lo stesso. Il percorso è identico. E addirittura, quest'anno, l'Europa League è stata, diciamo, dimezzata di squadre e con il dimezzarsi di squadre, addirittura per chi passa primo, gli è stato tolto un turno. E quindi fa due partite di meno. Esempio. La Champions è sempre la stessa. La Nations League, che per molti, tantissimi, è inutile, ha preso il posto degli amichevoli. E se si vuole arrivare a giocare il mondiale con un'ossatura, è normale, è normale che si debbano fare delle partite prima. Non puoi fare otto partite di qualificazione e poi andare a giocare il mondiale due anni dopo. Perché i giocatori che hanno giocato l'ultima partita sono invecchiati. Cioè, alcuni saranno esplosi. Cioè, in una stagione, dovete capire questa cosa, in una stagione completa, in una stagione completa, c'è veramente il rischio che oggi, venuti della Fiorentina, non è nessuno, quest'anno fa una stagione della Madonna, diventa un top player, a finalità lo compra il Barcellona, perché può capitare. Guardate Bellanova, chi era Bellanova? Guardate Aslani, chi era Aslani? Ok? Però magari lui non ha mai fatto una partita in nazionale, non farà, nel caso, ma è una partita in nazionale, perché l'ultima qualificazione è stata un anno fa e il mondiale c'è tra due mesi. Esempio. E allora non va bene. La Nations League ha preso il posto degli amichevoli. Punto! Punto! Non c'è stato niente di diverso. Gli amichevoli erano quelle partite che giochi in Nations League, forse anche di più, perché ogni 3x2 c'era uno stop. Eh, ma il mondiale, in inverno, ha rovinato perché adesso li sono tutti i partiti sommati. Cazzata! Perché la Nations League avrebbe preso il posto del mondiale. Ci sarebbe stata una settimana in più a settembre per la Nations, una settimana in più a dicembre per la Nations, una settimana in più a novembre per la Nations. Non ci sarebbe stato il mondiale, ma ci sarebbe stato adesso. E quindi non sarebbe cambiato nulla. Il mondiale vi può non piacere, eh, perché il mondiale in inverno vi può non piacere portare dietro tutte le dicerie che si sono dette. A me va bene tutto. Però non è cambiato nulla. Cioè, è importante che voi capiate questa cosa. Che il mondiale è stato preso e spostato. Stop! Fine! Non è successo nient'altro. E quindi non reinventate le montagne. Non cercate di arrampicarvi sugli specchi. È questo. Addirittura, negli ultimi anni, è stata tolta la Confederations Cup. Che sono partite che si giocavano e adesso non si giocano più. Toglieranno, da quello che ho capito, il mondiale per club. Lo toglieranno. Saranno partite in meno che non si giocheranno più. L'europeo ha aumentato una partita. Questa è l'unica cosa, negli ultimi vent'anni, che è stata aumentata. Una partita dell'europeo. Gli ottavi di finale. Prima non c'erano, si andava direttamente ai quarti. Un modello veramente di merda, se posso essere sincero, perché giusto in Coppa d'Africa nel 1950 andavano direttamente ai quarti. Visto che abbiamo due miliardi di squadre europee, era giusto fare anche il turno per gli ottavi di finale. È una partita in più. Una. Non cento. Una. Quindi, alla fine, l'unica cosa che è aumentata è una partita in più dell'europeo. Stop. E perché vi faccio tutto questo discorso? Perché a me non mi sembra che i Francesco Totti, i Zanetti, i Maldini, i Nesta, ma anche i Ciavi, i Nesta, ma non mi sembra nemmeno oggi che i Messi e Ronaldo in realtà, perché quando c'hai voglia, c'hai voglia. Non mi sembra che quelli di prima si lamentassero, non mi sembra che il gattuso andasse ai microfoni e dicesse sono veramente stanco, non siamo animali, basta farci giocare. Ragazzi, ma prima contavano i giorni, dicevano ma quanti giorni mancano alla prossima partita? Quattro, cinque, cazzo ho pareggiato quella prima, voglio mangiare il prato, voglio brucare nell'erba per cercare di mangiare i punti ed entrare sulle caviglie agli avversari per cercare di far punti, ho vinto, voglio rivincere subito, voglio scendere subito in campo. Cioè, prima praticamente era la voglia di giocare e non è un discorso populista. Cioè, non voglio cadere nel solito ma chi lavora fa tot giorni, eccetera, sei stanco, mi dispiace, ma è normale che sia così. Fai uno sport, fai un lavoro che è uno sport ed è giusto che tu ti debba interfacciare con le stanchezze di tutti. Un ragazzo giustamente cercava di difendere il mio pensiero ma ci sta poi io non la pensa come gli pare e sotto quel post faceva riferimento al fatto che effettivamente chi fa il giro d'Italia o che cazzo è in bicicletta d'estate in salita fa caldo ma lo fa uguale, lo fa uguale. Quando si va a correre nei paesi a Fosi, quando si va a correre nei paesi a Fosi per quanto riguarda la Formula 1 e la MotoGP ci avranno guardo i piloti ma vanno uguale. Cioè, non c'è un discorso di dire eh no però poverini, ma poverini che? Ma poverini cosa? Cioè, io non lo faccio, lo ripeto, un discorso, non ne faccio un discorso populista del tipo eh però prendono i milioni e allora scendete in campo. È semplicemente un discorso in cui adesso vi hanno fatto passare nella testa, nel cervello che ora poverini faticano molto ragazzi ragazzi non è cambiato nulla anzi vi dirò una cosa con l'aumentario degli anni sono migliorate le tecnologie e quindi è migliorato anche lo spostamento adesso hai la possibilità di andare rapidamente in aereo o in voli privati da un posto a un altro mettendoci veramente poco prima ragazzi facevano le pulmanate gli autobus e i cariconi con tutti i pulman e la gente dentro i tremi per 14 ore volavano anche ma non tutti non tutti anche quando volavi i voli adesso durano molto meno cioè e questo per dirvi che nessuno nessuno si è mai lamentato in passato ma si giocava uguale cioè cercate di prendere davanti a voi il calendario cercate di capire se effettivamente era più folto o meno folto ma ormai si gioca ogni tre giorni questo era un discorso che si poteva fare nel periodo in cui era ripreso il calcio dopo il covid e quindi per forza di cose si giocava ogni tre giorni perché bisognava anche ogni due perché bisognava chiudere tutto oggi si gioca esattamente come si è sempre giocato si inizia il campionato si fanno delle giornate di campionato una volta ogni sette giorni poi si parte con campionato Champions League campionato Champions League di solito pausa campionato Champions League scampionato Champions League pausa e la prima pausa è quella delle nazionali che c'è sempre stata oggi c'è la National League prima c'erano le amiche ma comunque dovevi farle la seconda pausa era quella di Natale successivamente c'era Serie A Ottavi de Champions Serie A gli altri Ottavi de Champions quindi manco giocavi sempre come fanno adesso poi Serie A ritorno di Ottavi de Champions Serie A ritorno poi Serie A quarti Serie A quarti di andata Serie A quarti di ritorno Serie A quarti di ritorno nel mezzo c'era una pausa una pausa poi Serie A semifinale Serie A semifinale quando non c'era la Champions Serie c'era la Coppa Italia c'è stata sempre e c'è anche oggi solo che prima addirittura quando adesso ci sono quei buchetti quei buchetti che tu dici oh questa settimana non c'è niente di mercoledì prima c'era il ritorno dell'ottavo il ritorno del quarto e poi alla fine il ritorno della finale cioè quindi prima si giocava anche di più cioè non mi venite a prendere per il culo non cerchiamo di difendere l'indifendibile cioè io comunque sapete lavoro con il calcio amo il calcio quindi sono contento di venire giro a pallone ma capisco anche chi nel calcio lavora e io regà questo è un lavoro quindi anche a me delle volte mi rodo il culo che dico cazzo io potevo fare oggi un video pomeriggio parlando di qualcosa magari facendo un'analisi di rosaria invece di rimanere a casa perché lunedì c'è lunedì c'è lunedì stanni posticipi martedì c'è mercoledì giovedì e venerdì e sabato non esce mai però comunque è un lavoro è il lavoro che si è scelto e quindi è giusto e normale che si debba scendere in campo qualcuno poi dirà eh ma quello è un discorso diverso perché loro ne fanno un discorso fisico di atletismo di preparazione il fisico non regge non è vero è sempre detto è sempre detto a me non mi sembra che il gattuso abbia avuto dei grossi problemi in carriera pirlo idem Totti si è rotto una volta perché gli è entrato uno male da dietro e gli ha fatto tutti e due i crociati e quello e quell'altro ma perché non è che a livello fisico ci avesse questi grossi problemi e non è vero che sì è vero che il calcio oggi è più veloce è un gioco più rapido è un gioco più intenso però è anche vero che a differenza di prima e guardate perché ci sono le statistiche oggi tra varie perdite di tempo VAR eccetera ci sono molti più minuti in cui si sta fermi e si recupera controllate non vi sto non lo sto inventando cassa andate a prendere il minutaggio medio di partita di 10 anni fa e il minutaggio medio di partita oggi si gioca molto di meno ok poi è vero che quando si gioca il calcio è più veloce prima era molto più lento già negli anni 80 era un ritmo lentissimo però nel 2000-2010 non dico che era simile ad oggi però si avvicinava ecco però raga oggi si gioca anche molto di meno quindi c'è tempo di recuperare durante la partita non ovviamente di fare un recupero completo ci mancherebbe altro però sdoganiamola sta cosa sdoganiamola perché sennò per quanto mi riguarda stiamo difendendo l'indifendibile comunque basta fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale vi ringrazio buon c'è la legna come sempre ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao a tutti